Bene, finalmente è arrivato il pianoforte a coda. È arrivato, finalmente. E beh, 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 beh. Dov'è la preside? Finalmente ci siamo. L'obiettivo che mi ero prefissata quando ho messo a piede in questa scuola nel 2012 era proprio quello di poter donare a questa comunità educante un pianoforte a coda. Era difficile poterci riuscire per un istituto comprensivo ad indirizzo musicale perché noi non abbiamo i fondi dei licei musicali, abbiamo poche risorse. Ma finalmente è arrivato un progetto Monitor 440 che prevedeva la possibilità di fare scuola all'aria aperta con la bellezza della musica. Quindi noi faremo la nostra ripartenza con la socializzazione degli alunni con momenti di gioia all'aperto sotto le noti musicali grazie alla magia della musica. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.